ciao a tutti amici della riete benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami ariete tendenze energetiche affettive per la seconda metà di gennaio 2024 sono tre carte ragazzi sono un po troppe una sola per piacere la sacerdotessa non male quando c'è la carta della sacerdotessa si parla di un periodo fortemente intuitivo è un periodo probabilmente collegato al vostro lato femminile o meglio al vostro lato percettivo andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi vi ricordo come sempre che le letture sono generali sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto se non risuona se nulla se volesse completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente segno lunare oppure venere per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi lo vedete anche qui e ci sono poi anche il link per le previsioni del 2024 bene andiamo a vedere le energie disponibili per questa seconda parte di gennaio partiamo con il diavolo la regina di denari la sacerdotessa nuovamente il 2 di bastoni gli amanti la regina di coppe tante donne tanta energia femminile devo dire temperanza e fante di spade ragazzi partendo con questo diavolo come l'idea che qui ci sia una situazione un po costretta un po o schiavizzante o condizionante sì comunque adesso poi andiamo a vedere con i militarocchi però è come se ci fosse una sorta di io lo sento molto come un energia bloccata c'è poi una regina di denari e la sacerdotessa quindi qui può far riferimento una situazione magari familiare con una madre o una situazione di amicizia potrebbe anche essere ho più l'idea che sia qualcosa di familiare però sapete che possono risuonare sia per amicizie che per relazioni di coppia che per famiglie queste letture quindi cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà andiamo a vedere il diavolo per piacere 5 di coppia imperatore cavaliere di pentacoli il mondo è un 4 di pentacoli ci può essere qualche cosa inerente un trasferimento uno spostamento una casa come se ci fosse una sorta di cosa stabilita che può essere appunto una casa una regola mi verrebbe da dire anche un contratto diciamo più un accordo che probabilmente un po condiziona vi dico in realtà c'è anche il mondo che una carta di compimento no però anche una carta di chiusura cicli non vedere la regina di denari cavaliere di spade re di spade allora ragazzi nella terza settimana di gennaio c'è come un vostro organizzare o si parla delle vostre idee o si parla di una qualche questione pratica intorno a voi devo dire ci sono tante figure non vedere la sacerdotessa quattro di bastoni e fante di pentacoli vi dirò ragazzi qui questo studio questo programma di cui mi parlano queste due carte questa cosa di cui vi dovete o vi volete occupare sento che è un qualche cosa che potrebbe darvi del valore in più qui c'è una sorta di velato senso di colpa per una questione ed è come se voleste capire meglio probabilmente questa questione ti dico essendoci cavaliere di spade può anche essere che sia un po latente la voglia di fuggire da una certa situazione magari dalla tossicità di cui ci parla diavolo e qui con la sacerdotessa un po come ok come faccio come mio organizzo cosa metto prima qual è il piano per riuscire nel mio intento non vedremo rispondi di bastoni 5 di bastoni 10 di coppia si è come se ci fossero delle mi vien da dire fazioni cioè probabilmente o siete nel mezzo di un litigio tra familiari nel senso che siete voi le persone che potete mediare oppure c'è un qualcosa inerente una chiusura un cambio una qualche situazione pratica che avete bisogno di diciamo rimettere in equilibrio e come se avessi bisogno di trovare stabilità in una situazione perché o voi o l'altra persona ogni tanto scappa dalle proprie responsabilità come se non si crea su un'unione di insieme però devo dire che nella seconda parte della lettura l'ultima settimana di gennaio le cose cambiano decisamente vi dico qua ci sono ben quattro figure più l'impera cinque figure se contiamo anche la regina di denari più l'imperatore ci può anche essere qualcosa legato ai figli e per qualcuno come se si volesse trovare o cercare una stabilità per i propri figli si volesse riuscire a guardare più in là vedere gli amanti perché gli amanti può riguardare una nuova relazione che inizia un'apertura del cuore o anche una scelta che si effettua per amor proprio abbiamo un 8 di coppe un quante sei di pentacoli asso di coppe 9 di bastoni e la luna allora qui potrebbe essere una relazione che inizia ragazzi perché abbiamo questo bellissimo solo i coppi però fate attenzione alle proiezioni del passato al anno proiettare le paure delle relazioni passate in questa nuova relazione in questo nuovo momento all'interno della relazione se avete già qualcuno ripeto è come se ci fosse da uscire da una sorta di tossicità e stiate pensando come fare come mi muovo come posso vedere più in là ma qui avendo la sacerdotessa vi dicono fidatevi del vostro intuito perché alla fine riuscirete a trovare comunque l'armonia e la stabilità avete anche la temperanza è a fine lettura che proprio la carta della guarigione andiamo a vedere la regina di coppe cavaliere di bastoni e 10 di bastoni allora qui vi consigliano come l'idea di che vi consigliano di lasciare stare certe idee certe aspettative certi movimenti la regina di coppe è una di quelle regine che non fa trasparire le sue emozioni e talmente connessa con esse con loro con le emozioni che le vive veramente in modo amplificato solo che tende a tenerle dentro tende a non far trasparire e qui è un po come se vi dicessero appunto di più che non far trasparire qua lo sento proprio come non fatevi dominare dalle emozioni cercate di mettere equilibrio perché giustamente se conoscete una persona e qui effettivamente potrebbe essere questo cavaliere di bastoni o potrebbe anche essere una di queste due figure anche se lo sento meno però comunque quando c'è questo questo innamoramento c'è una sorta di esplosione del cuore e quando ci si innamora normalmente la parte razionale va a farsi bene dire no qui è come se vi dicessero va bene essere aperti nei confronti degli altri essere ricettivi ma bisogna anche mantenere allerta la capacità di discernimento ok qui abbiamo un fante di spade ed è proprio la carta di colui che vigila di colui che controlla di colui che sorveglia è la parte un po mentale no adesso andiamo a vedere la temperanza però qui è un po come se vi dicessero ok non vi fate anche qui avete un sei di pentacoli che una carta che parla c'è una bilancia parla di equilibrio anche lei qui un equilibrio tra il dare e ricevere devo vedere questa temperanza tra i bastoni e sei di spade allora può essere utile con questo sei di spade al fine di arrivare alla guarigione della temperanza lavorare sulle credenze limitanti o comunque su tutto quello che si è imparato in famiglia o diciamo nella fase di crescita dalle persone che avevate intorno perché molte delle credenze che potreste avere magari potrebbero non essere più adatte per voi e come la temperanza serve per ripulire quello che non serve e alleggerire no anche qui avete un dieci di bastoni che in realtà è girato al contrario per cui c'è bisogno di lasciarsi indietro certi sensi di colpa del passato certe responsabilità e anche certe aspettative che magari sono degli altri magari erano dei familiari o anche la sensazione che ci sia una sorta di se per esempio avete una famiglia e dei figli potrebbero esserci non sono discussioni nel senso litigi confronti ecco forse la parola più giusta sul dove mandare il figlio scuola o cose di questo genere quale sia la scuola migliore o quale sia la sede migliore fatemi sapere nei commenti allora ragazzi voglio estrarre ancora una di queste carte che sono come delle credenze limitanti che potreste avere visto che anche qui ne abbiamo parlato magari non vi risuona però può essere comunque un ottimo spunto di riflessione io ve la vicino in modo che facciate lo screenshot se avete piacere potete riguardarlo anche dopo un paio di giorni magari non risuona subito ma dopo un po sì che risuona allora la credenza può essere perché subisco un influenza esterna il condizionamento del diavolo di cui vi parlavo prima le aspettative esterne da dover lasciare indietro e poi abbiamo anche questo sei di spade che sono proprio le credenze limitanti ci sono guardate potrei anche mettere questo 5 di bastoni che sono diciamo le voci esterne il vociare esterno i pareri degli altri ok allora ve la metto qui così potete fare lo screenshot e adesso andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura vediamo che ultimo consiglio vi vogliono dare tagliare legna wow bellissimo allora questa carta vi parla di quello che sono i lavori diciamo semplici e ripetitivi le cose basilari della vita no a tagliare legna serve perché poi la legna serve per accendere il fuoco per riscaldarsi un bisogno primario quindi proprio alle cose di base della vita quelle che sono fatte in modo ripetitivo mi dice di prenderla come se fosse un modo di meditare vi consiglio anche un libro si chiama ikigai scritto con la k i k i guy ed è una filosofia di vita che vi spiega come diciamo trasformare in meditazione ogni singolo anche lavare i piatti ogni singola cosa si può trasformare in una meditazione bene amici della rete questo è quello che avevo per voi spero che comunque la lettura vi sia stata utile fatemelo comunque sapere con un commento con un like se avete piacere potete iscrivervi abbonarvi al canale o condividere il video io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao